Buongiorno a tutti, come state? Oggi è il 18 maggio, è la giornata uggiosa. Vi racconto un po'. Aio, benighe di conto! Sono i sterzili, sto andando a fare un giretto. Dovrei incontrare il mio babbo, che a quest'ora va tutti i giorni al bar a fare colazione. È un modo come un altro per stare nella società, per avere vicino le altre persone. Che noi ragioniamo così, visto che i parenti sono pochi, e quei pochi che abbiamo sono per giunta lontanissimi, e qui ci vengono davvero poco. Allora abbiamo creato un'altra famiglia, che è quella degli amici. Perché ricordate sempre che quando non si può avere ciò che si desidera, bisogna vivere bene con ciò che si ha. Questo me l'ha insegnato Meme, ed è un messaggino che avevo anche trovato in una bustina di zucchero, mentre ci prestavamo a consumare la colazione a Chieti, quando siamo andati là a Coniole, per il giuramento del figlio. E mi piace sempre ricordarvelo. È nuvoloso, come vi ho detto, si sta bene, il clima è buono, e io penso che questo sia un luogo incantato. Se uno qui ha una fonte di guadagno, è da definirsi una persona ricca. Perché è vero che non abbiamo il cinema, il teatro, i centri commerciali di cui se ne può fare benissimo o meno, ma noi abbiamo la campagna che ci offre i prodotti genuini, dove si va a trascorrere il tempo, una palestra interessante e produttiva. E poi i rapporti di buon vicinato sono impagabili. Insomma, tutte le località hanno qualcosa da offrire. E noi ci godiamo quelle di questo territorio. Vi auguro un felice sabato e a presto. Ciao!